Ok ragazzi, quando le perdite dei russi, dopo oltre due anni di conflitto, superano le 500.000 unità, che cosa potrebbe mai andare storto? Ebbene sì, i russi hanno superato ormai già da ieri la soglia dei 500.000 soldati persi. E per il resto il rapporto, il bollettino di guerra, è paurosamente mediocre. I russi hanno perso, come sempre, più di mille uomini, hanno perso circa 30 fra carri armati e blindati e hanno perso anche una trentina scarsa di unità di artiglieria. Il dato interessante è che a questo giro i russi hanno perso anche sette unità speciali. Ed il fatto che normalmente l'etichetta unità speciale sia sinonimo di unità radar oppure missile antimissile ci lascia intendere chiaramente che gli ucraini si stanno preparando per un contrattacco molto, molto speciale. Come è noto, fra meno di un mese dovrebbero arrivare i primi F-16, poco meno di una ventina. Verosimilmente non saranno dei veri e propri game changers, però certamente gli F-16 sono una piattaforma formidabile per compiere un congruo numero di missioni. E uno dei requisiti per il successo è proprio ottenere la supremazia aerea o quantomeno ridurre al minimo la possibilità che questi jet vengano abbattuti. Anche perché non è che ne esistano molti altri da mandare agli ucraini. In secondo luogo, come vedremo fra poco, è altrettanto vero che gli Atacams possono essere utilizzati praticamente soltanto nei territori occupati e quindi nel Donbass piuttosto che per l'appunto in Crimea. Gli americani non hanno mai autorizzato l'uso delle loro armi in territorio russo e quindi è fisiologico che tutti i bersagli si trovino solo ed esclusivamente in Crimea e nel Donbass. Gli ucraini stanno operando saggiamente, neutralizzando le batterie antimissile e antiaeree. In questo modo, un domani, e cioè fra un mesetto circa, il lavoro dei jet e dei missili e delle bombe che possono essere sganciate dai jet sarà un pochino più facile. Comunque sia, gli F-16 certamente aiuteranno la causa ucraina, ma difficilmente, grazie a loro, potremo vedere dei grandi sconvolgimenti in tempi rapidi. Questo perché, ripeto, gli F-16 arriveranno non proprio alla spicciolata, ma comunque saranno molto, molto contingentati, soprattutto all'inizio, per operare è necessario preparare il terreno, più o meno letteralmente, e poi, naturalmente, bisogna riuscire a usare queste armi in modo efficace, cosa non semplicissima. I nostri piloti hanno letteralmente anni e decenni di addestramento per usare i nostri velivoli. Gli ucraini, invece, hanno avuto a disposizione letteralmente pochi mesi, un anno nella migliore delle ipotesi. E dato che un'arma vale quanto il soldato, il militare che la usa, non possiamo aspettarci miracoli. Gli ucraini sono certamente coraggiosi, sono certamente intelligenti, sono certamente flessibili, ma, sventuratamente, l'esperienza la devi necessariamente fare sul campo. Puoi acquisirla su un simulatore e con qualche ora di volo, ma solo entro certi limiti. La differenza vera e propria la devi fare letteralmente volando centinaia e centinaia di ore. In realtà, decine di migliaia di ore. Quindi, riassumendo, la situazione potrà certamente migliorare fin dall'estate, ma scordatevi i risultati eclatanti. Verosimilmente, per i prossimi sei mesi minimo, forse per il prossimo anno e mezzo, gli ucraini verosimilmente adotteranno un comportamento prudente e cercheranno di erodere le capacità offensive dell'esercito russo senza rischiare più di tanto. Tradotte in termini poveri, non ci sarà una seconda controoffensiva come quella dell'anno scorso, che ovviamente non ha dato i risultati sperati. Inoltre, contrariamente alle stime pessimistiche di alcuni politici e giornalisti selezionati a caso fra i Cinque Stelle, i comunist-em, i sinistro-em, quelli che un tempo venivano erroneamente definiti progressisti, gli ucraini stanno facendo qualche timido passo avanti per resistere al gigante russo, il quale, per fortuna, continua a consumare sempre e comunque gli stessi errori. Ma procediamo con ordine. La prima buona notizia è che finalmente gli ucraini stanno tornando a ricevere proiettili per l'artiglieria. Fonti di stampa ucraine fanno sapere che i proiettili sono arrivati e sono efficaci. Il punto è sempre il solito. Kharkiv è una città molto grande, è la seconda città più grande dell'Ucraina e conta, nonostante i bombardamenti, circa un milione e mezzo di abitanti. I russi in quell'area hanno dispiegato originariamente circa 30.000 uomini e verosimilmente, secondo fonti attendibili, hanno dietro alle loro linee altri 20.000 uomini che possono fungere o dare in piazzo o come forza di invasione in senso più o meno lato per l'area del Sumi. In pratica il sospetto è che gli ucraini abbiano sì i mezzi per fronteggiare i soldati russi che stanno attaccando a Kharkiv, ma che su Kharkiv i russi non siano in condizioni di fare sul serio detto fra virgolette, perché ovviamente non sono in grado di acquisire con le forze disponibili il controllo su una popolazione così vasta. Se davvero così fosse, i russi stanno banalmente cercando di disperdere le truppe ucraine per ottenere dei vantaggi maggiori sul resto del fronte. Passiamo poi ad una seconda, piccola ma interessante e buona notizia. Ricordate il 19 maggio quando è stato riferito che gli ucraini erano riusciti ad affondare un dragamine? Ebbene c'è stato un errore di comunicazione. Ebbene la nave effettivamente distrutta era la Zilon, l'ultimo lanciarazzi in grado di utilizzare missili calibre che i russi avevano nella flotta del Mar Nero. Niente Zilon, niente lanci, da terra naturalmente o in questo caso dall'acqua, di missili calibre contro bersagli civili ucraini. Similmente anche gli attacchi aerei portati dai russi diventano con il passare del tempo leggermente più complicati. Quella che state vedendo, per esempio, è tutta la rotta, ma soprattutto il percorso e i chilometri in più che devono macinare i Tu-95 per arrivare a colpire il territorio ucraino. In pratica i russi per i bombardamenti utilizzano anche dei vecchissimi, ma pur sempre attuali, bombardieri strategici. E dato che naturalmente questi bombardieri strategici sono risorse preziose, i russi devono necessariamente portarli in basi aeree remote da cui farli decollare e tornare. Un altro lato positivo consiste nel fatto che in questo modo i mezzi russi si usurano molto più del normale, fra virgolette, anche se in realtà il loro impiego è normale. Macinano semplicemente molti più chilometri e quindi mediamente avranno bisogno di molti più pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio che in teoria i russi potrebbero non riuscire a preparare o a procurarsi. Esiste tuttavia un fronte dove apparentemente i russi sono prossimi a sfondare l'ultima linea di difesa. E no, non sto parlando del Kherson, non sto parlando di Zaporizia, ma sto parlando della nostra più o meno amata slash odiata Italia. Con l'avvicinarsi dell'elezione europea, la propaganda russa e pro Putin sembra essersi notevolmente intensificata, raggiungendo delle vette inconcepibili fino a qualche settimana fa. Iniziamo per esempio ad esaminare il false e il fatto quotidiano. Ora, come tutti sappiamo, sono passati ben più di due anni da quando Zio Vlada ha iniziato a invadere, bombardare, distruggere, colpire obiettivi civili. Ebbene, per il fatto quotidiano la notizia del giorno è che è la Nato a volere la guerra. E naturalmente non una guerra qualsiasi, ma una guerra mondiale. E tutto perché Stoltenberg ha osato affermare che sarebbe opportuno autorizzare gli ucraini ad utilizzare le armi occidentali in territorio russo. Naturalmente, se ha una notizia dedicate circa 30-60 secondi al massimo, questa affermazione potrebbe effettivamente suonare come guerra fondaia, ma la realtà, come sempre, è decisamente più complessa di così. Questa è la città di Vorochank, più o meno sul confine russo-ucraino. È territorio ucraino, è bombardata ed attaccata dai russi, ma soprattutto è attaccata dal territorio russo, perché notoriamente l'artiglieria è in grado di colpire letteralmente a chilometri di distanza. I russi lanciano i loro proiettili letali e mortali contro la popolazione di questa città, perché non tutti sono riusciti a evacuare, senza che possano essere colpiti dagli ucraini, perché gli ucraini non possono utilizzare i proiettili che noi gli abbiamo mandato per colpire i russi in territorio russo. Gli ucraini non hanno alcuna intenzione di marciare su Mosca, come è stato detto probabilmente da qualche imbecille, ma vogliono semplicemente poter neutralizzare le unità di artiglieria ed eventualmente le basi aeree che forniscono appoggio ai jet per bombardare il territorio ucraino. In parole povere, gli ucraini chiedono di potersi difendere neutralizzando le armi che distruggono le loro città e provocano tanto dolore e vittime. Ma in Occidente questo ragionamento sembra non arrivare. Il Fatto Quotidiano lo presenta come un escalation a rischio guerra nucleare. Sulla stessa linea si trova anche Giuseppe Conte, ma quello sinceramente senza offesa lo davo per scontato, perché notoriamente il Movimento 5 Stelle appoggia in tutto per tutto e anche di traverso Russia e Cina. Il tutto facendo quell'odioso bippismo psicologico circa il fatto che Vladimir dispone di ben 6.000 testate nucleari e potrà far finire il mondo, che sinceramente io mi auguro che Giuseppe Conte non veda la presidenza del Consiglio neanche per il tramite di un telescopio, perché è chiaro che se tu te la fai sotto solo perché qualcun altro ha delle testate nucleari non potrai mai essere un buon presidente, perché naturalmente appena quello con le testate viene a chiederti di tutto e di più, tu glielo concedi, ti stendi pancia a terra, come diceva Toninelli, e poi ti fai calpestare. Questo Toninelli non l'aveva capito che sarebbe successo, però il concetto di fondo è questo qui. Sulla stessa linea c'è anche Matteo Salvini e qui sinceramente sono un filino sorpreso, ma non più di tanto. un filino perché comunque Salvini fa parte del governo, dovrebbe adeguarsi a quella che è la linea della Giorgia nazionale, senza troppa spettacolarizzazione, invece cerca di differenziarsi per recuperare qualche voto verosimilmente. E poi il problema è che verosimilmente il nostro influencer non esattamente preferito a un debole per la Russia o ci è legato a doppio filo, questo probabilmente non lo sapremo mai. Però il fatto è che anche lui era il tizio che dieci anni fa girava con la magliettina con l'effigie di Vladimir Putin, chiedeva che venissero revocate le sanzioni, eccetera, eccetera. Per cui lui è contrario, se la gioca anche lui sulla paura, perché è un influencer, non è uno statista, come ripeto sempre, lui valuta le cose in termini di like, e di punti percentuali dall'oggi al domani e non ha piani a lungo termine. Questo è uno dei grandissimi limiti di molti politici di oggi. Tagliani invece è un filino più possibilista, ma è tremendamente prudente, o perlomeno questa è la mia opinione. Per trasparenza devo dire che Costantino De Blasi, persona stimatissima e abilissima e di opinione contraria rispetto alla mia, sostiene che Tagliani è un'altra cosa che in realtà sia d'accordo con Salvini, però io ho trovato soltanto questa dichiarazione di ADN Kronos in cui Tagliani afferma che le decisioni nella Nato si prendono collegialmente e quindi sostanzialmente lascia intendere che l'Italia si adatterà alla linea presa dagli altri. Poi naturalmente c'è anche una seconda interpretazione possibile, che è quella di dire che in realtà le nostre armi vanno utilizzate solo all'interno dell'Ucraina come fa Salvini e lo esprime semplicemente in modo più elegante. Personalmente apprezzo anche il fatto che Tagliani riconosca che la Russia ci sta muovendo una guerra ibrida. È l'unico a dirlo, detto fra parentesi. Poi però parla di pace e di smorzare i toni, il che mi inquieta un pochetto. Però, ripeto, ci sono luci ed ombre. E poi c'è Giorgia Meloni sulla stessa linea di Tagliani, o forse viceversa, visto che lei è il presidente del Consiglio, che invita alla prudenza e che non riesce a capire esattamente qual è la situazione. Ora, se effettivamente questa è la posizione di Giorgia, un minimo di margine sembra esserci, perché un conto è dire sono assolutamente contrario, altro è dire non capisco perché Stoltenberg abbia assunto questa posizione. Se non lo capisce, magari qualcuno che glielo può spiegare si trova. Tra l'altro siamo anche in periodo elettorale, quindi basta che qualcuno dei nostri riesca ad arpionarla, l'avvicina letteralmente con i disegnini e gli schemini e magari Giorgia capisce qual è il problema. Ma il pezzo di propaganda più allucinante e improponibile del fatto è stato scritto da Tiziano Parente. Tiziano Parente riesce a sdoganare i bersagli civili come legittimi, ovviamente a favore dei russi, perché infatti i russi hanno colpito una tipografia e Tiziano Parente dice beh, non è chiarissimo che cosa i russi intendano per bersaglio legittimo. A prescindere da quello che intendono i russi come bersaglio legittimo, una tipografia non lo è e non potrà mai esserlo per i nostri parametri, che sono gli unici che contano, ok? Se vuoi utilizzare dei parametri russi, fai il fagotto, ti trasferisci in Russia, tra l'altro in questo periodo ti danno immediatamente la cittadinanza russa. Devi soltanto fare quello che dice Putin per un annetto. Magari essendo tu un giornalista qualificato non finisci neanche al fronte a fare da carne da cannone. È proprio un affarone, guarda. Però, insomma, il concetto è questo. Siamo sotto elezioni, troviamo giornali e politici che si comportano in questo modo qui, in totale spregio della vita umana e di quelle garanzie minime. È vero che la nostra Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa contro gli altri popoli, ma non dice da nessuna parte che dobbiamo permettere agli altri popoli di essere letteralmente schiacciati o finire sotto gli stivali dei dittatori. Tra l'altro, prima tocca agli altri, poi tocca anche a noi. Quindi anche questa sarebbe una ragione in più per stare sul pezzo e bloccare i dittatori appena possibile. Soltanto che ultimamente sembra prevalere questa narrazione che rientra per l'appunto nella guerra ibrida a cui accennava Tajani. E lo so che è poca cosa e che è anche una cosa minima, però è bello sapere che c'è almeno un ministro degli esteri che questa cosa, detto fra virgolette, della guerra ibrida se la ricorda. È infinitamente meglio rispetto a un Salvini e a un Conte che si nascondono sotto il tavolo dicendo che verremo seppelliti e atomizzati dalle testate nucleari dei russi. È già un passo avanti, riconoscetelo. E voi, in linea di massima, che cosa ne pensate? Riusciremo, o meglio, si riuscirà a fare in modo che gli ucraini possano utilizzare le armi della Nato anche in territorio russo? In teoria basterebbe pochissimo. Basterebbe inserire la regola che gli ucraini possono colpire soltanto le armi in territorio russo che a loro volta colpiscono l'Ucraina. Sarebbe una scelta di buonsenso. Naturalmente l'uso delle armi in Nato andrebbe vincolato. Non dovrebbe essere possibile colpire bersagli civili, anche perché sarebbe illegale, e non dovrebbe essere possibile colpire qualcosa che non abbia valore militare, che non sia stato usato o stia per essere usato contro l'Ucraina. È una cosa fattibilissima, secondo me. E secondo voi? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, come sempre, ricordatevi di supportare il canale. Potete diventare un Patreon, se volete potete, o in alternativa perlomeno iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link con gli amici, e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso qui sotto. Darete una grande mano, con pochi clic, che però per il canale significano davvero molto. Come sempre, grazie di tutto per tutto, e a presto!